Per i cremonesi le difficoltà legate all'accesso pensionistico sono sempre maggiori. È quanto emerge da una ricerca svolta da CGL Cremona, che evidenzia come nel 2024 si sia registrato un calo del 28% delle domande di pensione anticipata rispetto al 2023. Il dato, peraltro, è di gran lunga superiore rispetto alla media regionale, dove si rileva un meno 20%. Le motivazioni legate a questa tendenza sono molteplici e toccano diverse questioni normative da tempo di battute. Le motivazioni sono molto semplici, nel senso che le norme che si sono susseguite in questi anni sono state nettamente peggiorative rispetto alla possibilità di accesso a pensione anticipata e quindi è un disegno sostanzialmente che va avanti già da parecchio tempo e quindi le metodologie di uscita dal mondo del lavoro per poi l'accesso a pensione sono nettamente peggiorate per il peggioramento sia della condizione di uscita di opzione donna che della scomparsa sostanzialmente quest'anno anche della quota 103 che prevede quest'anno il calcolo interamente contributivo e quindi è un'uscita molto meno gettonata rispetto a quello che era lo scorso anno. Oltre a questo, purtroppo, ci aspettiamo proprio un peggioramento delle situazioni che ci sono attualmente anche per l'anno 2025 perché le previsioni di uscita sembrano peggiorare ulteriormente per chi dovrà andare in pensione anticipata allungando le finestre probabilmente da tre a sei mesi d'attesa. L'opzione donna rappresenta, secondo i sindacati, l'aspetto più indicativo del calo cremonese. Secondo me c'è anche una forte discontinuità sulle carriere delle donne e quindi già la percentuale di donne che accedevano a pensione anticipata prima era già inferiore rispetto ai dati Lombardi. Il fatto anche del peggioramento di questa situazione di opzione donne data appunto dall'ultima riforma sicuramente ha peggiorato ulteriormente la situazione quindi pesa, secondo me, anche il lato dell'accesso a pensione da parte della donna rispetto all'uomo.